Torna per la seconda edizione la Parco Corsa, l'iniziativa come sempre nel giorno di Pasquetta. Che edizione sarà quest'anno? Come anche l'anno scorso è una bella edizione, sempre più importante. Ci sono molti atleti e come al solito parte dal Pionta, quindi lo spirito principale, oltre che stare insieme, lo sport è quello di far rinascere il Parco del Pionta, uno degli ambienti più belli della città che purtroppo a volte è un po' nel degrado. E quindi noi come società di atletica, ma soprattutto il Policiano, si cerca di dare una mano a riscoprire quest'ambiente, e far sì che non venga utilizzato solo per il giorno delle gare, ma venga utilizzato sempre. Quale sarà il percorso? Si chiama Parco Corsa perché attraverserà un po' i parchi aretini, quindi la partenza dal Pionta, l'arrivo al Pionta, però dal Pionta si verrà qui al Parco Pertini, poi fondamentalmente il Prato, Villa Severi, il Parco Pertini e poi l'arrivo al Pionta. Ovviamente l'invito è rivolto a tutta la cittadinanza, anche per riscoprire degli angoli verdi della nostra città, insomma anche per incentivare le persone a fare un po' di sport. Ma certo, c'è oltre che la gara competitiva, c'è la camminata, quindi veramente possono partecipare tutti, il nostro sport all'atletica si può fare tutti a qualunque età, e quindi è sicuramente lo sport più praticato, lo dicono le statistiche a livello nazionale, molte volte si sostiene sia il calcio, ma non è vero, perché è l'atletica che è lo sport più praticato, quindi è una grande opportunità, perché si può fare a qualunque livello, a qualunque età, si può fare a livello materiale, a livello un pochino più professionale, e a livello professionale. Grazie.